Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video Trickshot, tema trickshot Nel video ogni tanto farò un trickshot anche di Caterina Ce l'ha fatta, ci abbiamo messo tre anni per farle Poi se no fa guarda anche E partiamo Sì, 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 sì Oh, rifatto Non ce l'ha fatta Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Non hai vino presa che mi teniamo i passi in mano Ai, a fucking pass! Ma con lo spazzolino Venga, non parlo Non pionio Spera che questo aiuto E' così Lasciate like, commentate Iscriveteci se volete qualche altro video con casa Grazie Al prossimo video Al prossimo video